Babbo Natale Un mattino innevato, in una lontanissima terra innevata, Babbo Natale si prepara alla partenza. È quasi ora. Ma prima dà da mangiare alle renne. Mette i regali nella slitta scintillante e si sistema il berretto morbido morbido coprendo bene le orecchie. Ora è pronto per il lunghissimo viaggio. Babbo Natale vola nella gelida notte, intorno alla luna e in mezzo alle stelle brillanti. Senti le campanelle della slitta? Babbo Natale deve affrettarsi. La neve scricchiola sotto gli stivali neri e lucidi. Ora Babbo Natale si infila nel camino di ogni casa, di ogni strada, di ogni città. Mentre si aggira in punta di piedi, gli unici suoni che sente sono il tic-toc e il din-don degli orologi. Babbo Natale sorride fra sé, mentre si stema i regali sotto ogni albero e riempie ogni calza. Babbo Natale mette l'ultimo regalo sotto l'ultimo albero. Sarà il tuo? Poi vola a casa per aprire i suoi regali. Buon Natale a tutti! Fine